A me anche i maestri mi hanno detto che io sapevo parlare molto bene l'attrice e quindi questa cosa mi ha vinto molto di più a venire. Per me il teatro è spensieratezza. Per me il teatro è passione. Per me il teatro è eccellenza. Per me il teatro è creatività. Per me il teatro è vita. Per me il teatro è giocosità. Per me il teatro è creatività. Per me il teatro è impegno. Per me il teatro è eccellenza. Per me il teatro è eccellenza. Grazie a tutti.